Asino Cotto Achela vieni qua Un applauso ad Achela Achela intanto vedo Stefania tra il pubblico che ride perché dice l'ho scampata stavolta Prima col coniglietto salve Achela Allora fa vedere le unghie perché il lupo di solito c'era le unghie benissimo Puoi dare il di solito ecco Achela va dall'estetista e si fa limare le unghie E se le fa anche colorare Nessuno di voi le unghie colorate? No? Ah ok le è Silvia in company Bene per voi che siete a casa che state seguendo Videone il programma della Babydance in televisione Quando arriva il nostro animale di turno in questo caso Achela E' il momento di cominciare a ballare Facciamo un po' di riscaldamento Pensate ai bimbi che c'è chi a casa ci guarda che ha due anni, ha tre anni davanti alla televisione E noi dobbiamo fargli vedere come si balla Se siamo veramente bravi quando parte la musica seguiremo i suoi movimenti 3, 2, 1 Musica! 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 Grazie a tutti. Un applauso per Akela! Bravissima, bravissima Akela, che lupo ballerino che abbiamo tutta noi. Questa, bambini, era quasi, era proprio musica da discoteca, cioè che quando vai in discoteca, oltre a ballare a Situpego, stai a ballare a Situpego, lupetto? No, no, Akela non sa ballare, ma Coniglietto l'ha ballata benissimo. Nella puntata di ieri, nel bosco, giustamente Carmela dice, non arriva la radio, non arriva la televisione, quindi... Bene, bravi, una pezza della discoteca, salutiamo Akela con un altro applauso a domani! Ciao! Allora, tutti qui davanti, mano al centro, attiviamoci, diamoci la scossa. Adesso al nostro via, come sempre, viva la baby dance ole! Uno, due, tre... Viva la baby dance!